Un palcoscenico perfettamente innevato per una grande competizione nazionale di sci alpinismo. Domenica 19 febbraio a Colle retorna la sesta edizione di Ski Alp 3 Memorial Angelo Castelletti, organizzata da Sciclub 13 e Kai Clusone. La gara, nata come rally della Presolana, quest'anno è valevole come campionato italiano individuale di sci alpinismo e come quinta prova nel circuito della Coppa Italia. Ma la novità è la candidatura alla Coppa del Mondo nel 2013. Questa per noi è una vetrina internazionale, saranno presenti dei giudici di gara dell'ISMF che valuteranno tutta la marchigiana organizzativa della manifestazione. Il percorso è già stato omologato l'anno scorso come percorso internazionale, questo è un percorso di riserva che avevamo ideato già l'anno scorso, ma siamo pronti e ci giochiamo questa candidatura. La prova si disputerà su un percorso di 15 chilometri sul versante sud della Presolana, con un dislivello di 1900 metri per la categoria senior e di 1100 metri per la categoria junior. Si parte dal passo della Presolana, su verso la vetta della Pizzocorzene, le creste di Olone e poi il canale del diavolo con gli sci in spalla, e ancora la discesa nel canalino del dito, la valle dell'ombra e il rush finale alla Malga Cassinelli, sino alla località Donico. Una prova molto impegnativa che vedrà decine di atleti darsi battaglia verso il traguardo. Sicuramente sono presenti gli atleti dell'esercito, del gruppo sportivo esercito, tipo Manfred Reikheker, poi c'è Denis Trento, la Lloriana Pellissier e il nostro Lanfranchi, che sicuramente Pietro Lanfranchi darà del filo a torcere e punterà al podio.